Avrebbe dovuto restare in casa dove si trovava ai domiciliari, ma è stato invece sorpreso dai carabinieri al bar. Per lui sono così scattate di nuovo le manette. L'uomo, un 49enne del Casentino, doveva infatti scontare una pena di due anni e otto mesi per rapine e sequestro di persona. Nel 2017 era stato infatti protagonista di un violento episodio nei confronti dell'ex compagna, a cui in un impeto di gelosia aveva rotto due costole. L'aveva anche strappato la borsa per impossessarsi del cellulare e l'aveva sequestrata all'interno dell'auto. L'uomo era stato così individuato, arrestato e poi condannato. Ieri sera il 49enne, sottoposto al regime di detenzione domiciliare, è stato sorpreso dai militari all'interno di un bar nei pressi della sua abitazione, dalla quale ovviamente non si sarebbe dovuto assentare. L'uomo si sarebbe giustificato dicendo che voleva prendersi un momento di libertà. Per lui sono scattate di nuovo le manette.